Sicuramente avere riaperto di lunedì non è come aprire la domenica, avremmo sicuramente preferito la domenica. Da stamattina le cose sono tornate più o meno in regola per noi esercenti e finalmente torniamo a fare il nostro lavoro, la nostra professione, si spera, nel fine settimana. Speriamo soprattutto nel buon senso della gente, nel buon senso dei proprietari dei pubblici esercizi e dei negozi. Sono estremamente convinto che se tutti insieme viaggiamo nella stessa direzione, riusciamo a ottenere buoni risultati e sicuramente una buona base di ripartenza. Siamo fiduciosi, speriamo di ripartire bene, prenotazioni ce ne sono, la gente chiama, contenta e speriamo che tutto questo si prolunghi e non succeda come il mese scorso che ci hanno fatto chiudere dopo pochi giorni. Se tutti seguiamo le regole speriamo di proseguire, di andare avanti e di sconfiggere questo virus. Normalmente a gennaio, febbraio a Mantua è sempre stato un po' sia a pranzo che a cena, un po' di calma, cioè è normale perché dopo le feste è normale. Solo che qui le feste non le abbiamo fatte e quindi penso che la gente abbia molto voglia di uscire. C'è un po' di gente nuova, c'è un po' di gente che viene per lavoro, un po' di gente che non ne poteva più e che ha voglia di fare un pranzo al ristorante. E' ovvio che la sera è fondamentale, è vero anche che abbiamo notato che nel momento in cui, anche perché a cena è un bel po' che non siamo più aperti, abbiamo fatto un tempo a fare un bel po' di pranzi, le persone tendono a cambiare abitudini e quindi abbiamo fatto dei pranzi che non facevamo.